Ciao, chi è più forte tra Giulio Cesar e Onana? Con i piedi Onana sicuramente, ma Giulio Cesar dava una sicurezza che solo lui dava nell'Inter, secondo me. C'è tra Materazzi e Skriniar? Tutti e due fortissimi, ma a livello di attaccamento alla squadra e di grinta non c'è paragone Materazzi. Materazzi vero interista. Cambiasso contro Brozovic? Tutti e due fantastici, l'Inter la seguo soprattutto da cinque anni, non sono così vecchio, quindi cambiasso non lo ricordo benissimo, quindi ti dico pari perché non saprei fare bene il paragone. Snyder invece contro Cialanoglu? Oddio, per ora ti dico Snyder. Cialanoglu aspettiamo un po' ancora dietro perché vediamo come va, vediamo la finale come va. E invece il Principe Milito contro Lautaro Martinez.